Le buone abitudini non si cambiano e si dice anche che squadra che vince non si cambia. Quindi eccoci tornati con parola al direttore sulle fonti tv, naturalmente con Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero. Bentrovato direttore. Grazie a te, sono molto contento che tu sia tornata. Dopo questa pausa estiva che però insomma ci ha fatto riflettere molto su alcune notizie che adesso andremo a raccontare insieme. Dobbiamo parlare di tante cose, se tu sei d'accordo direttore io partirei sempre dal tema Covid ma analizzando due aspetti che sono fondamentali e importanti in questo momento. Ancora il tema delle vaccinazioni con una fetta di popolazione che ancora deve vaccinarsi e con questa terza dose che si profila all'orizzonte e poi il tema del Green Pass che ha scatenato le polemiche più aspre. Se sei d'accordo partirei da questo così poi ce lo leviamo dalle scatole e passiamo ad altre notizie. Io peraltro da quando ho fatto entrambi i vaccini non penso più al Covid perché mi sento abbastanza protetto. In ogni caso io ho sempre avuto paura del Covid e non dei vaccini quindi se ci sarà da fare anche la terza dose mi presenterò puntuale e farò anche la terza dose nella convinzione che è meglio sfidare il vaccino che sfidare il Covid. Perché se sfidi il vaccino naturalmente hai una probabilità su un milione di avere dei disturbi e se invece ti becchi il virus le cose si complicano. Quindi molto meglio il vaccino. Ecco il primo dibattito è stato proprio questo che si è anche un po' intensificato durante il periodo estivo cioè vax no vax ma anche con toni un po' fuori luogo adesso al di là della scelta di ciascuno che è libera almeno al momento finché eventualmente non dovessero decidere di rendere obbligatorio ma insomma tu pensi che si arriverà a quello prima o poi? Beh intanto devo dire che molti vaccini sono già obbligatori. Certo. Molti per cui non capisco perché solamente questo non possa diventare obbligatorio. Non so anche quando ero un bambino io ho fatto vari vaccini poi quando sono cresciuto ai miei figli ho dovuto fare anche l'antipolio, antivaiolo ma 4 o 5 vaccini e nessuno protestava. Adesso c'è la moda dei no vax per cui ci sono anche quelli contrari al vaccino o quello anti covid e credo che sia veramente un modo sbagliato di ragionare. Dopodiché però io non posso impedire alle persone di essere stupide perché è un'operazione veramente che non è nelle nostre forze. Quindi lasciamogli questa mania di non vaccinarsi. L'importante è che se crepano poi si paghino almeno il funerale visto che le spese sanitarie quelle vanno pagate sempre dalla collettività. Ma visto che i toni sono stati molto aspri, dicevo indipendentemente poi dalla scelta lecita finché non sarà obbligatorio di vaccinarsi o meno, credi che possa sfociare in una veramente qualcosa di sociale, di importante questo tema? Perché poi tra poco parleremo anche del Green Pass che in altrettanto modo ha scatenato gli animi. Ma io non credo perché i no vax sono una minoranza veramente irrisoria, è rumorosa, è diciamo portata anche a compiere atti di violenza come abbiamo visto. Qui al mio giornale addirittura hanno organizzato una manifestazione, ci sono state 700-800 persone che gridavano sconsideratamente contro di noi perché siamo favorevoli al vaccino. Allora non riesco a capire perché i no vax si arrabbino con noi che facciamo il vaccino, ma noi che facciamo il vaccino non ci possiamo arrabbiare con chi non lo fa. Non lo so, mi sembra un atteggiamento mentale veramente dissennato. Green Pass che poi è strettamente collegato perché cosa si dice? Beh, allora il vaccino non è obbligatorio ma se tu mi obblighi a esibire il Green Pass soprattutto nei locali al chiuso, quindi se voglio sedermi al ristorante o al bar, piuttosto che adesso si sta discutendo anche sui luoghi di lavoro, poi parliamo anche politicamente dei dissidi all'interno della maggioranza, è come dirmi devi fare il vaccino obbligatoriamente. Ecco, Green Pass, questo potrebbe portare, visto che parliamo di quotidianità, cioè lavoro, abitudini e azioni di tutti i giorni, potrebbe portare invece a qualcosa di più rischioso o a livello sociale sempre perché poi da lì si potrebbe scatenare una serie di cose? Intendiamoci, non sono un profeta e quindi non posso immaginare quello che succederà domani, però la mia sensazione è che si tratti comunque di un fenomeno marginale, continueremo tutti, la maggior parte, a fare i nostri vaccini, avremo il Green Pass, sì sono tutte scocciature, mi rendo conto, però d'altronde siamo di fronte a una pandemia che ha fatto una quantità sterminata di morti, quindi un po' di prudenza ci è richiesta e noi la dobbiamo garantire. Green Pass tu sei per l'obbligatorietà, quindi direttore? Io sono per l'obbligo anche vaccinale, per le ragioni che dicevo prima, ai bambini è obbligatorio fare l'antipolio, infatti da quando c'è il vaccino antipolio non ci sono più poliomielitici, io quando ero un bambino che facevo le alimentari, avevo un paio di compagni che avevano poliomielite e quindi camminavano in modo imbarazzante, quindi significa che il vaccino antipolio ha risolto radicalmente un problemone, non un problemino. Certo, sì, parlano di vaccino sperimentale, quindi chi sostiene... Tutti i vaccini sono sperimentali. Sì, abbiamo fatto un po' da cavie, diciamo così, però... Beh, mica tanto, non è morto nessuno. Non è morto nessuno. O due o tre che sono morti perché avevano delle malattie pregresse e non lo sapevano. Restiamo ancora per un istante sul tema Green Pass, ma parliamo nel livello politico, perché anche all'interno della maggioranza c'è un po' di maretta. Per esempio Salvini, che va in pressing proprio sul governo e si andrebbe verso un Green Pass dimezzato, ma insomma la tensione c'è, tant'è che anche Enrico Letta, segretario democratico, ha detto insomma se Salvini non sposa ed è della maggioranza può anche andarsene... Insomma questo l'ho parafrasato, non ha detto così, ma insomma il senso è quello. Io credo che Salvini sia difficile da comprendere, perché ricordo a tutti, ma diciamo è un'operazione di ripasso la mia, non è un'opinione. Salvini fece il primo governo con il Movimento 5 Stelle e infatti diciamo qualcosa di buono l'ha fatto, per esempio quando era ministro dell'interno si è comportato in modo molto efficace, tant'è che erano calate moltissimo le invasioni barbariche. Dopodiché però, per motivi che non ha mai chiarito, è uscito da quel governo ed è rimasto fuori anche per un bel po' e sono andati avanti senza di lui. Poi arriva Draghi e allora a questo punto Salvini rientra nella maggioranza insieme non solo ancora con il Movimento 5 Stelle, da cui si era staccato per motivi inspiegabili, inspiegati, e anche con l'avversario storico, cioè col PD. Questo ha un po' scombussolato l'opinione pubblica, tant'è vero che i consensi di Salvini, lo vediamo dai sondaggi che sono indicativi, cioè non sono definitivi ma sono indicativi, i consensi si sono abbassati parecchio. Questo secondo me dovrebbe far riflettere Salvini anche sul suo modo di comportarsi in questo governo. Dopodiché però vediamo, perché ci saranno presto le elezioni amministrative, che anche quelle non sono definitive perché sono parziali, però vedremo un po' come andranno le cose. Mentre la Meloni che ha tenuto un atteggiamento molto coerente, criticabile per chi desidera criticarlo, però c'è poco da fare. Insomma la politica e la critica vanno di pari passo, non è che si possa... Non lo stupisce, però poi naturalmente Draghi è una persona seria, quindi le cose riesce a farlo in modo decente e quindi il governo va avanti, però è chiaro che dentro la maggioranza c'è una situazione di litigio continuo che non piace. E volevo arrivare proprio alle amministrative, in realtà mi hai dato due o tre assist, ma insomma poi fanno parte tutti dello stesso pacchetto. Intanto Giorgia Meloni che ha avuto effettivamente la meglio in questo periodo politico, tu hai deciso di candidarti a Milano con Fratelli d'Italia. No, me l'ha chiesto la Meloni, siccome io sono amico della Meloni, scherzando dico anche che mi sono innamorato di lei, ma sono innamorato del suo modo di fare, non c'è nulla di scabroso, non c'è nulla di scabroso. E quindi sì, ho accettato di fare il capolista e vediamo cosa succede. Fra l'altro a me interessa prendere un voto più della Lega. Questo l'avevi detto subito. E quindi vediamo cosa succederà, però io non mi spacherò la testa, anche se questo non dovesse succedere. E l'altro aspetto di queste amministrative, che arrivano già in un momento diverso dal solito, perché c'è ancora tutto il tema della pandemia, però soprattutto quando parliamo di piazze come Roma, Milano, si è sempre detto, direttore, che in qualche modo dessero un'indicazione per il gradimento degli italiani a livello nazionale, quindi per le politiche. Ma anche in questo caso, secondo te? Beh, diciamo che non sono lo specchio fedelissimo della realtà, è uno specchio un po' deformante, ma è uno specchio, quindi già capiremo com'è l'andante, un po' come la storia dei sondaggi, io li guardo quando escono e mi rendo conto che un conto è l'urna, un conto è il sondaggio, perché il sondaggio lo fai con delle telefonate, uno in quel momento dice quello che gli viene in mente, non è che magari stai intanto a riflettere, poi però possono mutare i risultati, però anche se mutano, diciamo che non mutano moltissimo, l'indicazione dei sondaggi è abbastanza attendibile e lo è ancora di più il voto amministrativo, anche perché ci sono parecchie le città dove si vota, quindi capiremo qualcosa, non tutto, ma qualcosa capiremo. Ma su Milano, che è la piazza dove ovviamente tu sei candidato, azzardiamo un pronostico? Ma io lo azzardo, perché penso che purtroppo Milano, specialmente in centro, sia costituita la popolazione da fighetti, come si usa a dire, e i fighetti per sentirsi tali votano a sinistra, senza neanche sapere perché, comunque farei loro, libera scelta, e quindi sarà molto difficile che il centro-destra riesca a prendere la maggioranza e il sindaco a Milano, molto difficile, perché questo Sala, che oltretutto è un signore alla moda, ha fatto le ciclabili, che per me è una scelta terribile, che bloccano la circolazione di Milano, poi ha promosso i monopattini, che sono delle zanzare a rotelle, sono fastidiosissime, poi insomma mi pare che delle periferie se ne sia sempre infischiato, poi Milano non è neanche una città illuminata, alla sera c'è un buio pesto, per cui la gente, specialmente le donne, non escono neanche volentieri perché temono, perché l'illuminazione fa rima con sicurezza, ma invece anche in questo punto non c'è stato uno sforzo da parte di Sala, ha amministrato così per assecondare le mode pseudo-culturali, che poi di culturale non hanno niente. E su Roma invece, poi dopo cambiamo argomento? Lì è più complessa la cosa perché ci sono delle situazioni quasi paradossali, per esempio quella dei rifiuti, ma è possibile che una città come Roma non abbia un termovalorizzatore, cioè un bruciatore, per cui Roma è costretta a portare di qua e di là i rifiuti e provocando dei disagi in città, perché è una delle poche città che ha conservato i cassonetti, i cassonetti si riempiono in fretta, fanno schifo, arrivano i cinghiali, arrivano gli uccelli, come si chiamano, non mi ricordo, quegli uccelli aggressivissimi, esatto, un po' una fauna che si sciorda. Voglio dire, anche solo questo fa un po' impressione, poi è caotica a Roma, i trasporti non funzionano, quindi non penso che la Raggi possa aspirare a conservare il posto di sindaco, c'è quel tizio lì di destra di cui non ricordo il nome che tutti lo criticano e proprio per questo vincerà. Ok, va bene, ci torneremo. Direttore ti faccio una domanda di economia, però intendo l'economia reale e parto proprio da un titolo che leggo su Libero, Draghi ci sommerge di cartelle esattoriali dopo lo stop per la pandemia, in arrivo entro la fine dell'anno 25 milioni di notifiche, ecco a partire da questo, che previsioni possiamo fare per l'economia del nostro paese, proprio alla luce dei dati sul lavoro, difficoltà, attività che hanno chiuso, ancora incertezza. No, io non faccio previsioni di questo tipo, mi attengo ai dati statistici e tutti i dati statistici dicono che l'economia in Italia ha già ricominciato a crescere e anche abbastanza acceleramente, anche il PIL è aumentato di circa il 6%, che non è una cifra alla quale siamo abituati noi italiani. Poi sono sempre dell'opinione che non esista neanche il problema della disoccupazione, per esempio il Bergamo che è la città dove io sono nato, ha il 3% di disoccupati, il 3% è un livello uguale a quello del Giappone, insomma, quindi non mi sembra proprio che si stia così male. Un po' fisiologico non può esserci 0% totale. Anche perché è uno che lascia un posto e poi ne cerca un altro, nel frattempo è disoccupato, comunque il 3% è bassissima. È la città che ha l'occupazione più alta di tutto il paese, ma per quale motivo? Perché la gente sa fare un mestiere, ma se tu non sai fare un mestiere, che mestiere fai? È chiaro che resti disoccupato. È vero che esistono ancora dei lavori manuali di quelli proprio che può fare anche un mentecatto, però questi posti vengono coperti quasi sempre dagli extracomunitari che si accontentano di un salario naturalmente più basso. Dopodiché è chiaro che se tu sai fare l'elettricista, un posto di elettricista lo trovi nel giro di 20 minuti, se sai fare l'idraulico oppure un mestiere qualsiasi, naturalmente, poi c'è lo studio e purtroppo la scuola italiana non è concatenata al mondo del lavoro, per cui a volte noi, i nostri figli li mandiamo a fare degli studi che poi non aprono, non spalancano le porte del lavoro. Questo è anche un altro problema, però sono piccole cose e sostanzialmente noi siamo anche ricchi perché abbiamo dei risparmi pazzeschi nelle banche, il risparmio privato è altissimo, quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che gli italiani sanno amministrarsi benissimo, benissimo perché hanno tanti soldi in banca, mentre lo Stato che ha tanti debiti evidentemente non è abile come gli italiani ad amministrarsi, mi sembra che questo sia matematico. Matematico, allora direttora, altre due questioni prima di chiudere questo nostro appuntamento mensile. Non posso non chiederti un tuo parere su quanto è accaduto in Afghanistan, di chi sono le responsabilità, il tuo parere di questo ritorno al passato, perché questa missione che è stata storicamente la più lunga, la più pesante da affrontare alla fine. Anche la più cretina, perché insomma io non capisco per quale motivo gli americani siano andati in Afghanistan anziché farsi gli affari loro, è vero che c'erano state le torri gemelle, una tragedia immane, però attenzione, Bin Laden non è mica un afgano, poi Bin Laden l'hanno ucciso in Pakistan e perché sono andati a fare la guerra agli afghani? Che cosa c'entravano gli afghani? Quindi è sbagliata fino dal suo inizio? Io sono abituato a farmi gli affari miei, non vado a fare le guerre in giro per il mondo e poi ci rimango vent'anni e poi me ne vengo via e me ne fotto, cioè mi sembra un atteggiamento sbagliato questo e fra l'altro anche l'Italia ha aderito a quella missione e mi sono sempre domandato per quale motivo, dopo c'erano gli accordi internazionali, quello lo sappiamo, però insomma io sono convinto che in Afghanistan non ci si doveva proprio mettere piede, invece ce l'abbiamo messo, abbiamo scombusolato tutto e adesso è un casino infernale. Sì sì perché poi sei tornati al passato peraltro vabbè con tutta... Anche lì, voglio dire cosa stavamo, tutta la vita in Afghanistan. E poi chiudiamo, vabbè passiamo da una parte all'altra però sono notizie anche queste, ti sembrerà strana questa domanda che ti faccio, ma tu credi nell'amore eterno? L'amore eterno finché dura. Ecco, tanto per citare. Poi io slegherei il problema diciamo dell'erotismo, del sesso all'amore, io sono convinto che sia più facile mantenere un rapporto anche coniugale o non coniugale, per molti anni basato su un amore vero, cioè sull'aiuto reciproco, piuttosto che sulle scopate, scusa la vulgarità, perché lì ci si stanca. Quello passa. Ci si stanca. Quello passa, ma certo. Perché uno mangia sempre la minestra, la minestra, la minestra, buona la minestra, dopo un po' la minestra ti fa venire l'urto dal vomito. Beh ma guarda, l'hai detto a modo tuo e strappa anche un sorriso, ma è molto bello quello che hai detto, perché tu stai dicendo che invece quando c'è comprensione reciproca, amore, aiuto, e allora quello vale più di qualsiasi cosa. Faccio un esempio molto pratico. Io sono sposato da 54 anni, sono tanti. Adesso che mia moglie è diventata vecchia, come l'altra parte sono diventato vecchia io, mi sono accorto di tenere lei in un modo incredibile. E allora ho fatto anche un tweet dicendo ma vuoi vedere che adesso che è vecchia mi sono innamorato di lei. Bellissimo. È fatta così. Ma sai che mi piace quasi di più questa dichiarazione che tu hai fatto indirettamente a tua moglie che quella che ha fatto Roberto Benigni a Nicoletta Braschi. L'avrai sentito. Anche perché l'ha copiata. Beh però insomma… No però è una carina. Bello perché lì ecco più o meno… Ha copiato bene. Ha copiato bene ma avete detto più o meno la stessa cosa, lui ha proprio parlato di questo rapporto completo al cento per cento perché è stato poi anche un rapporto di lavoro, no? Oltre che… qua va naturalmente coltivato. Io e mia moglie abbiamo sempre coltivato. Per esempio noi non abbiamo mai dormito nello stesso letto, non abbiamo mai dormito nella stessa camera. Abbiamo dei bagni separati da sempre, no? Lei c'è il suo, io e il mio. E poi diciamo che c'è un rispetto fondamentale che è la base dell'amore. Ecco. Beh allora qui facciamo una gara tra la dichiarazione di Benigni e Feltri. È un colpo di scena e in questo caso uno scoop sulle fonti tv. A proposito di amore, senta, l'amore tra me e te direttore… Quello è il colpo di fulmine. È stato un colpo di fulmine. È però il colpo di fulmine poi deve concretizzarsi. Eh lo so, è quello che mi dico anch'io, ma diciamo il covid, abbiamo l'impossibilità di vederci… Però dicono anche che le cose più sofferte poi sono quelle più belle. Sì, questo è vero. Però allora tu ti ricordi che la puntata scorsa noi abbiamo detto perché non facciamo una vacanza insieme? Sarebbe stato bellissimo. Eh, sarebbe perché dobbiamo svelare ai noi che non siamo andati in vacanza insieme. Però voglio mostrare che cosa avevi… Tu avevi pescato una località, no? Un bigliettino. Avevamo deciso di andare in Puglia, non so se si vede. Adesso poi il nostro operatore super lo inquadrerà. Puglia questo è il bigliettino che tu hai pescato. Però in Puglia non ci siamo andati. Purtroppo non ci siamo andati. Sarebbe stato bello. E allora però io, per far vedere che l'amore va coltivato, diamo anche questo messaggio, io ho portato un simbolo della Puglia. Bellissimo. Così mangerò un pezzo di Puglia. Esatto. Grazie. E così quando mangerai questi taralli, immaginerai di essere sotto l'ombrellone in spiaggia con me… Peccato che tu non ci sia, ma comunque… Ma un po' d'immaginazione. Sì, mi accontento del sogno. L'amore è anche un'immaginazione. Sì. Grazie, come sempre, anche per questa, come dire, per questa parte più alleggerita, perché comunque ci sta, bisogna cercare… Fa parte della vita. Esatto, fa parte della vita. Ci rivediamo alla prossima puntata di Parola Direttore. Molto volentieri. Feltri. Stabiliremo un'altra strategia. Eh, infatti, però… Che vada a buon fine, possibilmente. Saralli, va bene, però quando finiscono quelli… Allora, quando hai mangiato l'ultimo mi chiami che vediamo cosa possiamo fare. Fantastico. Va bene. Grazie, alla prossima puntata. Un abbraccio. Ciao, ciao.